Sì, tema della salute, in particolare di una patologia che si chiama emofilia, una patologia del sangue che colpisce migliaia di persone in Italia. Buonasera, in studio la dottoressa Stefania Farace, ben trovata. Buonasera a tutti. Segretaria generale di Fedemo, che è la federazione delle associazioni emofilici, nell'occasione, la ospitiamo in occasione della giornata mondiale dell'emofilia, un tema che è stato discusso anche oggi in un convegno a Palazzo Rospigliosi a Roma. Intanto le chiedo di inquadrarci un po' che patologia è l'emofilia e che sintomi presenti. Sì, l'emofilia è una malattia moragica congenita caratterizzata dalla carenza o totale assenza di un fattore della coagulazione. Si distingue l'emofilia A e B a seconda del fattore carente. L'emofilia A è caratterizzata dall'assenza del fattore ottavo, la B di quello nono. In particolare i pazienti che presentano questo tipo di patologia vanno incontro a dei sanguinamenti o comunque degli episodi emorragici che possono essere più o meno gravi nel corso della loro vita. I dati, insomma, lo dicevamo, magari non sono sempre precisi, però se dovessimo fare una stima di quante persone in Italia o nel mondo soffrono di questa patologia? In Italia sono circa 9.000 pazienti affetti da malattie moragiche congenite. Quali cure sono possibili per questa patologia? La terapia che oggi abbiamo per l'emofilia è la profilassi, che è un regime terapeutico che consiste nella somministrazione di un fattore carente che è sostitutivo, che si infonde per via endovenosa tre o due volte alla settimana a seconda della tipologia dell'emofilia e della gravità della malattia stessa. Il convegno di stamani, in occasione di questa giornata mondiale, di cosa si è discusso in particolare e sono cure facilmente accessibili per l'emofilia? Al centro dei lavori di questa mattina c'è stata la gestione del paziente emofilico in urgenza, quindi al pronto soccorso. La giornata si è svolta in collaborazione con l'Associazione Italiana dei Centri Emofilia, con Cimeu e Cimeup, che sono le società italiane che si occupano di urgenza e di emergenza anche in età pediatrica. Per quanto riguarda le terapie in emofilia, la risposta è sì, in Italia sono di facile accesso e tutti i pazienti emofilici hanno accesso alle cure, chi in regime di profilassi, chi no a seconda di quello che viene stabilito, anche in accordo con il medico del proprio centro di riferimento. Quello che ci interessava stamattina era l'individuazione di un percorso idoneo per il paziente che si trova in urgenza al pronto soccorso, quindi anche l'assegnazione di un giusto codice di triage che gli permetta di avere le cure in maniera assolutamente tempestiva, quindi di essere riconosciuto e di essere trattato prima per la sua contazione patologica e poi per quello che è il problema specifico che l'ha portato al pronto soccorso. Le regioni si sono mostrate sensibili a questa richiesta che è arrivata oggi? Sì, assolutamente, ci sono delle regioni principe che hanno già dei percorsi simili come l'Emilia-Romagna che ha addirittura delle linee guida per la gestione del paziente in emergenza. L'Umbria si è mossa anche attualmente a un progetto attivo che prevede la formazione e l'informazione del personale su tutto il territorio dell'Umbria. Ovviamente la nostra speranza è di riuscire ad esportare questi modelli anche sul resto del territorio italiano. Tra poco vi chiedo dell'associazione e vorrei sapere però nella quotidianità le persone che sono affette da emofilia che problematiche hanno nella vita di tutti i giorni. Durante tutti i giorni in effetti innanzitutto la terapia nel momento della diagnosi non è sempre facile innanzitutto diagnosticare la patologia. Quando viene diagnosticata poi ci sta tutto un problema di accettazione da parte dei genitori per il bambino e poi la gestione della patologia quindi anche la terapia che è appunto indovenosa che spesso viene fatta a casa ma bisogna appunto che si impari a somministrare il farmaco prima i genitori in età pediatrica e poi i ragazzi stessi per acquistare la loro indipendenza. La sensibilizzazione delle persone rispetto a questa patologia è a che punto nel nostro paese? Beh direi che ogni anno si fa un passetto in più, un passo in avanti per migliorare la conoscenza di questa patologia. Sicuramente le persone sensibilizzate aumentano di anno in anno, siamo a buon punto ma bisogna continuare per avere dei percorsi che siano sempre più idonei e elevati per i pazienti con questo tipo di patologie. Non facciamo spot, raccontiamo in realtà, questo è possibile anche grazie alla vostra attività, l'attività di Fedemo, come nasce questa federazione di associazioni e di cosa si occupa? Beh il Fedemo nasce nel 1996 e raccoglie appunto le 33 associazioni locali che lavorano su tutto il territorio, lavora sempre in collaborazione con l'Associazione Italiana di Centremofilia per lo sviluppo della ricerca ma anche per coordinare tutte quelle attività a volte al miglioramento delle prestazioni di cure ma anche delle attività sociali che ci sono sul territorio. I progetti attivi sono veramente tanti e li portiamo avanti con impegno e passione. Ecco, di che progetti parliamo in particolare? Quali attività di sostegno ci sono alle associazioni locali? Laddove sia richiesto anche a livello istituzionale noi siamo sempre pronti a rappresentare i bisogni e le stanze dei pazienti non soltanto a livello nazionale ma anche a livello locale. Per quanto riguarda i progetti attivi ne abbiamo tanti anche con il nostro comitato giovani che è appunto un comitato formato da una decina di ragazzi attualmente impegnati anche in diversi percorsi di formazione. Loro partecipano attivamente a tutte le nostre attività anche alla giornata mondiale ed infatti stamattina erano con noi durante il corso dei lavori. La domanda è assolutamente da profano. Se ne esce da questa malattia o va gestita nel corso dell'esistenza? La malattia non se ne esce. Si parla spesso anche di terapia genica che noi speriamo possa esserci in un futuro non troppo lontano. La malattia per ora si gestisce e appunto per questo noi lavoriamo perché questo possa essere fatto sempre al meglio. Perché comunque serve un'opera e un'assistenza quotidiana sia da parte delle istituzioni che dai familiari immagino per avere in famiglia una persona con... Certo, avere in famiglia una persona affetta da emofilia vuol dire conviverci ogni giorno con qualcosa che deve far parte di te del quotidiano. Non si può immaginare di tenerla da parte o escluderla questa idea, questa verità che dal momento della diagnosi poi riaccompagna per tutta la vita. E' questo il problema, diciamo, la difficoltà della gestione quotidiana anche da parte di chi è vicino alle persone che sono affette dalla patologia? Ma a questo si riferiva quando parlava di accettazione un po' elaborata? Sì, certo, perché non è facile accettare appunto di avere una patologia in generale. Quando si tratta di patologie poi legate a demorragia subito scatta il campanello d'allarme, il sangue, il sanguinamento. Quindi da parte dei familiari nel caso dei bambini piccoli non sempre è facile perché il bambino gattona, corre, urta e quindi ci deve essere sì la cura, quello ovviamente la terapia che ti aiuti in maniera pratica nella gestione della vita quotidiana. Però deve esserci anche un percorso interno e psicologico che ti possa aiutare durante il corso della crescita di tuo figlio. La diagnosi negli anni è diventata più immediata? Si riconoscono subito i sintomi dell'emofilia o si scambia magari come spesso avviene per tante patologie per altre? Lo scambio può avvenire assolutamente, non sempre è facile individuarla subito, però quando si va in contatto con un personale che comunque conosce le malattie morragiche in generale, a quel punto la diagnosi è legata ai tempi di coagulazione. Quindi con un prelievo è possibile poi effettuare dapprima un'analisi di quelli che sono i tempi di coagulazione e poi un'analisi genetica che possa stabilire bene che tipo di emofilia si ha davanti. Quanto è più grave la tipo B rispetto alla tipo A? Beh, in realtà ci sono diversi gradi per entrambe, grave, moderato e lieve. Dipende dalla percentuale di fattore, cioè si equivalgono poi in grosso modo per quanto riguarda il resto. Tra le attività di Fedemo credo che una branca, se non ho capito male, è dedicata allo sport perché l'attività sportiva è magari difficile da praticare per persone affette di emofilia però è anche importante praticare. Per i ragazzi è importante l'attività sportiva perché laddove non ci siano problematiche a livello articolare perché l'emofilia porta anche questo tipo di problemi quando il sanguinamento interessa le articolazioni. L'attività sportiva rende la muscolatura più forte, quindi aiuta tutto il nostro apparato muscolo scheletrico a mantenersi nel tempo e prevenire anche eventi emorragici. Quindi noi stiamo facendo un'attività proprio di divulgazione di queste notizie per spingere di invogliare i ragazzi a praticare un'attività sportiva per loro idonea, quindi a regarsi presso il loro centro emofilia per parlare col proprio medico di quale attività potrebbe aiutarli in questo senso. Ci sono degli sport in generale più consigliati di altri delle discipline o no? Lo sport principe è sicuramente il nuoto, quello più consigliato anche per persone non affette da emofilia, però spesso capita che i ragazzi vogliono giocare anche a calcio, che nel nostro paese è uno sport molto importante e laddove ci siano le possibilità, nel senso che le condizioni fisiche che sono necessarie, è possibile anche per un ragazzino emofilico intraprendere un'attività di questo tipo. In occasione di questa giornata mondiale dedicata al tema dell'emofilia, che richieste come associazione avete fatto e qualcosa ci ha detto, di cosa avete bisogno dalle istituzioni, dalle persone, magari anche dal mondo della sanità, dagli ospedali, dalle strutture? Abbiamo bisogno che in una realtà come quella del pronto soccorso, dove il turnover del personale è veramente elevato, è grande, è esagerato quasi, che ci sia una formazione di tutto il personale, perché il paziente emofilico deve essere immediatamente riconosciuto e trattato. L'importante in questa patologia è la tempestività. Grazie mille alla dottoressa Stefania Farace per essere stata con noi, segretaria generale di Fedemo, che è la federazione delle associazioni per i malati di emofilia. Grazie ancora.